buongiorno prego benvenuto alla boristeria del monastero di santa pazienza mi dica che problema scusi ma perché sta piangendo no non deve piangere cosa succede suo marito le mette le corna e corna ma e io cosa posso fare consigli ma è che cos'è questa media media ma che cosa sono queste mutandine erotiche ma dove li ha trovate li ha trovate dentro la borsa della ginastica di suo marito e guardi le cose sono due sono o suo marito le mette le corna oppure suo marito è un tarro vestito semplicemente questa non è la taglia di suo marito chanel numero 5 numero 5 numero 5 queste sono mutande di troppo che consigli posso dare io guardi due consigli due consigli c'è un metodo radicale quello che noi usavamo o noi le nostre nonne usavano vede questo mattarello questo mattarello si prende con la mano ferma e boom boom su testa di marito finché marito non diventa normale oppure ci affidiamo alla questa erboristeria guardi questo è per perdere capelli questo invece per perdere le palle non va bene vediamo ah ecco questo e questo guardi questo serve per far passare la voglia di fare i corna a suo marito questo invece serve per fare venire voglia di trombare a suo marito quindi lei prende queste gocce e le mette nel caffè di suo marito quando lei ha paura che le metta le corna invece quando suo marito è a casa e lei vuole una bella trombata prende quest'altra gocce e le mette nel caffè e vedrà che suo marito diventerà un toro un toro mi raccomando non si sbagli perché sennò se non si sbagliato troverà tutte quelle del paese mi raccomando ecco poi vediamo cosa posso consigliarle cosa questo questo essere pangrattato non c'entra niente evidentemente sorgiusi l'ha dimenticato qui doveva fare i panzarotte di patate hai presente quelle cose fatte con le patate molto buone che poi si friggono ecco guardi mi faccia sapere mi raccomando poi torni qui e mi lasci il feedback e naturalmente un bel pollice in su e anche condivida con le sue amiche perché se le sue amiche hanno lo stesso suo problema possono venire qua e io risolvo tutto grazie alle borristerie del convento detto questo io la saluto abbraccio e ci vediamo ciao